Un po' il paternesi lascerà una memoria e questo che sto dicendo adesso è un po' il sunto di quello che ritroverete in questa memoria scritta. Io credo che in merito ai disegni di legge che sono in esame, credo che la prima cosa impellente necessaria nel ridisegno del governo dell'Inps è il ripristino del Consiglio di amministrazione, peraltro cosa prevista in tutti i disegni di legge. Credo che sia una questione di democrazia perché credo che la composizione può avere, per la mia esperienza vissuta in Inps, il numero di cinque. Credo io che è la migliore composizione che risponde alle necessità dell'Istituto perché l'Istituto è grande e quindi è bene che il Consiglio di amministrazione sia commisurato alla grandezza dell'Istituto. Perché dico questo dell'urgenza di ripristinare il Consiglio di amministrazione? Perché l'uomo solo al comando non funziona nella maniera più assoluta. Noi abbiamo avuto in questo lasso di tempi, in questi quattro anni, abbiamo avuto due commissari, senza contare Mastrapasqua che ho trovato, che ha esercitato per un periodo le funzioni di commissario e poi dopo di presidente dell'Istituto che cumulava anche i poteri del Consiglio di amministrazione, e poi l'attuale presidente Boeri. La seconda necessità che voglio sottolineare che sia rappresentata nella nuova legge in itinere qua alla Camera è l'assoluta necessità che vengano definiti bene e definiti con nettezza le competenze degli organi dell'Inps. credo che sia molto ma molto basilare. Questo sempre in virtù dell'esperienza che io ho vissuto in questi quattro anni. In definitiva, attualmente, gli organi dell'Inps sono il presidente che cumula, come ho detto, anche i poteri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di intirizzo e vigilanza che mi onoro di presiedere, il direttore generale, e poi vi sono i revisori e il magistrato della Corte dei Conti. Primo diceva che bisogna definire con nettezza i compiti degli organi. e perché è necessario, questa necessità deriva dal fatto che nella pratica quotidiana che ho vissuto in questi due anni e mezzo si è perseguita con tenacia e con volontà ben precisa di superare l'attuale sistema duale, di governo duale con l'imposizione attraverso l'atto amministrativo. La riforma organizzativa è pur sempre un atto amministrativo. È specifico perché, insomma, sono di questo mio così sottolineatura. Nella interlocuzione tra gli organi vi è quella tra il CIV e il direttore generale e non lo stabilisce la prassi questa interlocuzione ma si fonda su una precisa norma di legge cioè l'articolo 7 del DPR 366 del 97 non è la prassi come qua è stato rappresentato nell'audizione del Presidente dell'Inps. Un altro esempio la querelle che c'è stata tra il precedente direttore generale e l'attuale Presidenza è derivata dal fatto che il direttore generale con la riforma organizzativa di cui abbiamo detto che è pur sempre un atto amministrativo era ed è diventato nell'attualità una sorta di segretario della Presidenza peraltro sottoposto alla nuova segreteria unica che viene ispirata e diretta dallo stesso Presidente dell'Istituto. Questa è realtà, non sono realtà pratica di tutti i giorni. Ad ogni buon conto i disegni di legge che si hanno in discussione prevedono ancora il governo duale ed è un bene che sia così da una parte la gestione consiglio di amministrazione e direttore generale dall'altra il controllo CIV o consiglio strategico non è una questione di denominazione cioè usare l'uno o l'altro termine per significare che cosa fa il consiglio strategico o di indirizzo e veniamo alla questione principale che così tanta ha sollevato un polverone questa la situazione del controllo se è vero che questo organismo il consiglio diciamo che controlla controllore deve avere così sapaventa da qualche parte che non debba più approvare il bilancio e allora cioè non lo so il legislatore qual'altro strumento prevede per che il consiglio eserciti il controllo a parer mio non ve non ve ne sono o perlomeno di tale efficacia per quanto riguarda il controllo la mia esperienza vissuta da quattro anni nell'IMSS e quella vissuta da segretario comunale per quasi 40 anni mi inducono a dire che lo strumento principe per esercitare il controllo è il bilancio dell'ente cioè con il bilancio dell'ente si entra nel merito e veramente si controlla a saperlo leggere il bilancio però a saperlo leggere non solo io mi spingo anche oltre sempre in virtù dell'esperienza perché io qua non rappresento le parti sociali sono state audite anche le parti sociali io qua sono venuto e vi ringrazio per questo a raccontare l'esperienza che ho vissuto da presidente e rappresento il consiglio di indirizzo e vigilanza e dico che la nuova legge che ridetermina il governo dell'IMSS deve prevedere che se il CIV non approva il bilancio non può approvarlo neanche il ministro del lavoro e per una semplicissima ragione se l'organo di vigilanza non ha un potere di deterrenza cioè quello di considerato come è avvenuto per il bilancio 2017 se vede che gli indirizzi dettati il consiglio e il bilancio non trovano rispondenza cioè tutto l'attività di vigilanza e di indirizzo rimane sostanzialmente inefficace perché se non c'è il potere di deterrenza cioè va bene il CIV quest'anno non ha approvato il preventivo 2018 dopo la fine il ministro si è sostituito al CIV e dico bene e alla fine il bilancio si è approvato quindi e comunque ci tengo a precisare che la la mancata approvazione può prevedere anche il legislatore che siano certi i motivi per cui viene non approvato un bilancio e deve essere deve essere specificata nella nuova nella nuova perché poi dopo non ci sia l'abuso da parte del CIV che siccome allora non approva il bilancio e per quanto riguarda il bilancio 2017 non è avvenuto per capriccio o per futili motivi le argomentazioni addotte in questa sede dalla presidenza dell'istituto sono del tutto gratuite consentitemi di dire che sono del tutto gratuite le ragioni vere sono state da ultimo rappresentate nella lettera spedita al capo di gabinetto del ministro del lavoro in data 24 marzo e solo alcune delle motivazioni per cui sia stato sinteticamente ve le voglio indicare la mancata adozione del piano triennale di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare e del piano triennale dell'informatica sono strumenti che sono previsti dalla legge la loro compilazione deve essere effettuata e prevista dalla legge un altro motivo per cui non si è proceduta all'approvazione del bilancio è la carenza di rappresentazione delle azioni per la soluzione di problemi evidenziati anche dal CIP questione relativa ai crediti e ai debiti dell'istituto il peggioramento della qualità delle prestazioni istituzionali essenziali pensioni e prestazioni di sostegno al reddito cioè non sono chiacchiere queste si ritrovano nei documenti che lo stesso istituto elabora cioè se la pensione prima veniva liquidata in un periodo di 30 giorni adesso si arriva anche ad oltre i 100 giorni ed oltre ed oltre ed oltre ed anche poi ci sono i profili di legittimità denunciati e le conseguenze sull'organizzazione del personale io mi soffermo perché il presidente già ha suonato la campanella e voglio dire che richiamo l'attenzione della commissione del legislatore più in generale sulla composizione dell'OIV sulla nomina dell'OIV che deve essere una nomina condivisa e dal presidente dell'istituto e dal consiglio di indirizzo e vigilanza anche perché questo organismo indipendente di valutazione ha delle con il decreto legislativo 74 andate in vigore a giugno di quest'anno ha delle specifiche competenze che debbono inturre il legislatore a verificare per e non è vero che il CIV come qui è stato rappresentato abbia svolto un'azione dilatoria nella nomina di questo organismo si sono specificati in una delibera che adesso non ricordo il numero ma del 27 luglio quest'anno 26 luglio dell'anno scorso si sono specificati i motivi per i quali non si è proceduto al rinnovo del un'ultima un'ultima considerazione proprio brevissima c'è la faccenda che gli organi sia centrali che periferici siano un po' pletorici siano un po' io credo che bisogna riflettere bene su questa parte della come si chiama l'attuale presidente ripete sempre l'ha dichiarata anche alla stampa ed anche in questa sede ha detto che l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza si compone di 24 elementi non è vero il consiglio di indirizzo e vigilanza si compone di 22 membri questa un po' la dice lunga insomma sulla sulla conoscenza dell' dell'istituto e dai me da qualche mese i consiglieri da 22 sono diventati 21 perché un componente è passato a miglior vita e quindi è soddisfatto anche l'auspicio dell'attuale presidenza che teorizza un numero dispari dei componenti dell'organo in questione solo per inciso ed ho finito presidente mi scusi il costo medio di un consigliere risulta inferiore a quelli di tutti gli altri organi dell'Inps ed ho buoni motivi e fondate ragioni per asserire che la stessa cosa avviene per gli organi periferici degli istituti voglio dire dei comitati regionali e dei comitati provinciali che assolvono ad un'azione democratica di somma importanza cioè io voglio dire che se il principio è quello di asciugare gli organi io richiamo questo è del legislatore più in generale ad essere cauti con questa faccenda perché si asciugano gli organi magari vanno meglio anche i conti nazionali ma è vero che si asciuga però anche la democrazia grazie grazie la parola a chi la chiede onorevole di salvo grazie presidente grazie al presidente per quanto riguarda me io sarò brevissima semplicemente due considerazioni la prima per dire al CIV qui rappresentato che intanto voglio ringraziarli per le valutazioni espresse per dire che siamo quasi alla fine ormai di un percorso di audizioni sulle proposte di legge di riforma della governance dell'Inps dell'INAIL e tutti convergono su alcuni punti il che ci conforta nella possibilità di andare rapidamente a una soluzione in particolare tutti convergono su un punto che anche voi avete rilevato e cioè che la presidenza degli istituti non può essere monocratica e quindi occorre che ci sia accompagnata da un consiglio dell'amministrazione e che si mantenga il sistema duale ora io su questo punto faccio la seconda ultima breve considerazione il sistema duale è esattamente il contrario della cogestione perché il sistema duale prevede di distinguere chi fa che cosa lo voglio dire perché preoccupazioni che sono venute sul fatto che il sistema duale possa prevedere la cogestione degli istituti io penso siano negate nella sua struttura nella sua sostanza e infine quindi concludo immaginando che anche voi concordiate sul fatto che noi dobbiamo definire un impianto che aiuti a tenere in vita efficiente e efficace un istituto indipendentemente da chi lo dirige via via cioè noi immaginiamo un impianto che possa appunto essere importante al di là della capacità di relazione che si realizzano nei singoli istituti un impianto che definisca i poteri e quindi dia un'adeguata rappresentanza anche alle parti sociali in primo luogo nel consiglio di strategia di vigilanza e abbia nel consiglio di amministrazione poteri distinti quindi diciamo non faccio domande ma volevo rappresentare un quadro che ci aiuta a immaginare una rapida approvazione del tutto grazie presidente anche io ringrazio ovviamente gli auditi ci interessa anche ma ovviamente può non risponderci a oggi ma magari mandarci questa rilevazione che avete fatto sui tempi di liquidazione che ci interessa ovviamente moltissimo anche perché in una recente nella recente presentazione del bilancio del 2016 dell'Inps qui il presidente Boeri ha addirittura detto che la Naspi viene liquidata nel 50% dei casi in 15 giorni le nostre esperienze rispetto a tutta la gente che si lamenta dei tempi d'attesa delle liquidazioni delle prestazioni Inps sono molto diversi quindi ovviamente un vostro autorevole riferimento ci interesserebbe molto prego ci sono altri se non ci sono altri solo se ha tempo nei pochi minuti una domanda avrete valutato le proposte di legge avete particolari suggerimenti apprezzamenti sulle proposte circa consiglio d'amministrazione struttura duale e così via se avete suggerimenti o anche successivamente li potrete mandare per scritto noi li ascoltiamo volentieri ci sono 5 minuti a disposizione poi c'è la successiva audizione prego presidente no noi abbiamo preparato una memoria che lasceremo qua agli atti della commissione noi abbiamo rappresentato tutte quante queste no io volevo rispondere all'onorevole di salvo cioè per l'esperienza ripeto di 4 anni che ho vissuto in IMS se il consiglio di indirizzo e vigilanza o il consiglio strategico comunque lo si voglia denominare non ha un pizzico di potere di deterrenza cioè i due o gli organi o questa governance duale non avrà modo a parer mio di viaggiare in in sintonia telegrafico bene allora ringraziamo il presidente mi pare che ci sia una memoria a disposizione che io ovviamente giro al dottor Tabacchi che a sua volta girerà sarà un giro continuo grazie e alla prossima grazie arrivederci grazie 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 bene proseguiamo il ciclo di audizioni delle proposte Damiano Baldassarre Placido faccio presente che pur avendo le audizioni carattere informale ne è stata autorizzata la trasmissione sulla web tv della camera dei deputati l'oggetto è quello relativo alle modifiche all'ordinamento e alla struttura di IMS e INAIL nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità a partecipare al lavoro della commissione segnalo che sono presenti il dottor Giuseppe Lucibello direttore generale dell'INAIL il dottor Francesco Rampi detto Franco presidente del consiglio indirizzo e vigilanza dell'INAIL accompagnato dal dottor Alberto Lucarelli dalla dottoressa Elena De Pascale ringraziamo tutti abbiamo 40 minuti per la relazione che è affidata al dottor Luci Bello immagino lo leggo negli occhi lei ha 15 minuti di tempo io segnalerò al dodicesimo grazie grazie presidente pensavo che si iniziasse con le parti sociali visto che sono state recuperate nel diciamo nella vita corrente del paese quindi pensavo che si iniziasse mi scusi prego no mentre lei diceva no allora naturalmente lei ha 15 minuti il dottor Rampi ha 15 minuti no era giusto per precisare questa diciamo staffetta 4% grazie quindi ricomincio con le mie considerazioni pensavo si iniziasse con le parti sociali visto che sono state recuperate nel dibattito del paese comunque grazie per questa per questa occasione la prima domanda la faccio a me stesso si sarebbe parlato di nuova governance di INAIL se si parlasse oggi solo di INAIL io penso di no perché tutto sommato credo che gli organi di INAIL hanno dimostrato di sapere andare avanti anche con una governance imperfetta non che sia mancata la dialettica però l'articolazione degli obiettivi le scelte la possibilità di crescere ancorché il vero problema degli istituti credo e mi permetto di dirlo non sia tanto la governance quanto lo Stato in cui effettivamente si trovano per effetto di politiche direi non troppo attente a quelle che sono le effettive dinamiche l'invecchiamento dei lavoratori se oggi noi possiamo presentare un ente moderno che è andato avanti con l'innovazione tecnologica che ha coperto l'intero arco delle prestazioni nei confronti del personale o meglio dei dipendenti degli infortunati e dei tecnopatici è stato possibile perché nonostante 4.500 tagli di organico dal 2009 e nonostante 2.000 teste in meno dal 2010 il personale che non mancheremo mai di ringraziare quotidianamente ha condiviso le scelte degli organi dell'istituto ed è andato avanti lo stesso senza lamentarsi troppo ricordo che così come per la generalità dei dipendenti pubblici l'ultimo rinnovo contrattuale risale al 2009 ebbene la mia domanda è una domanda un pochino provocatoria cioè nel senso che indubbiamente c'è un'esigenza di collegialità noi abbiamo dato diciamo la lettura alle varie proposte poi alla fine mi permetterò anche di fare qualche piccola osservazione e mi rendo conto tuttavia che a prescindere dal modello che si sceglierà con la salvaguardia del ruolo importante delle parti sociali con l'introduzione anche di una collegialità perché oggi in effetti lo slogan che anima questo dibattito è evitare l'uomo solo al comando però la governance è talmente imperfetta che io per esempio ho dato lettura al contributo che il presidente dell'INAIL ha depositato la scorsa settimana il presidente ha un'altra impressione e ha dichiarato che il presidente ha solo potere di veto quindi mettiamoci un pochino d'accordo quale sia effettivamente l'uomo solo al comando se sia il presidente o il direttore generale non mi sembra che sia esattamente così certo molto viene determinato dal fattore umano perché si può scegliere un modello di governance perfetto magari mutuandolo dal sistema finlandese o colombiano però se alla fine sbagli le scelte si persevera in logiche di scelta dei componenti di un organo o di un presidente di un direttore generale ad insaputa del proponente è successo se si considerano le attuali limitazioni di tipo finanziario c'è stata nel tempo una sorta di demonizzazione anche di un principio di equità di remunerazione oggi la situazione è così un presidente di un ente guadagna meno di un dirigente di seconda fascia dello stesso ente il presidente del CIV guadagna 6 zeri in meno rispetto alla liquidazione di un manager pubblico i componenti del CIV guadagnano circa 10.000 euro l'anno e ho visto nelle proposte che si persegue l'obiettivo della riduzione dei costi rispetto all'attuale come fare? non certo riducendo e credo che sia un obiettivo giusto anche se va mantenuta la presenza dei componenti dei ministeri vigilanti con la riduzione del collegio sindacale da 7 a 3 per INA e da 9 a 3 per IMS certo a lungo andare ci sarà un risparmio però ricordiamoci che i dirigenti torneranno all'amministrazione di appartenenza e qualcuno dovrà comunque pagarli quindi nell'immediato la cosa non potrà essere utilizzata a copertura dell'intervento di razionalizzazione quindi se c'è diciamo l'intenzione la volontà se ci sono gli spazi per condurre questa importante riforma entro la fine della legislatura occorrerà procurarsi visto che trattandosi di materia ordinamentale non penso si possa immaginare ad un suo ingresso nella legge di bilancio quantomeno una provvista finanziaria per fare una riforma seria perché coniugare competenza professionalità esclusività e impegno perché ci vogliono non accademici lunari ci vogliono soggetti che siano attenti al perimetro d'azione dell'ente attenti al proprio ruolo che sappiano proporre nelle circostanze e con le modalità che le regole istituzionali insegnano e impongono e che sappiano soprattutto capire quelli che sono i veri problemi oggi i veri problemi sono personale allo stremo INA il personale con 53 anni di età due anni rispetto alla media dei dipendenti pubblici tra gli informatici abbiamo 57 anni immaginate insomma i processi di digitalizzazione che vengono guidati da soggetti così anziani quindi INA peraltro è stato chiamato a un contributo importantissimo per il rilancio delle attività produttive del paese dal 2014 ad oggi ha realizzato il miglior risultato di investimenti immobiliari del sistema paese e direi significativo anche dal punto di vista del confronto con le altre istituzioni europee ha fatto circa 850 milioni di investimenti diretti ha messo a disposizione un miliardo e 4 per gli investimenti indiretti ha investito nel primo fondo di turnaround italiano 200 milioni ha bisogno delle persone e questo lo chiederemo da subito con la prossima legge di bilancio per non morire perché altrimenti ci sarà la migliore governance del mondo avremo magari i soggetti scelti dal mondo accademico che ti presenteranno le pubblicazioni scientifiche con una copertina meravigliosa ci sarà il what if ci sarà il sistema attuariale più buono del mondo ma non ci sarà l'ente questa è una riflessione che consegno al Parlamento non possiamo più andare avanti così quindi una buona governance buoni interventi soggetti che siano responsabili soggetti che siano soprattutto consapevoli delle realtà in cui vivono degli obiettivi e delle sfide che vanno affrontate e sostenute in questo io dico che abbiamo fatto miracoli con l'attuale governance non c'è stato solo buonsenso c'è stato dialogo c'è stata capacità di confrontarsi abbiamo fatto asse con le norme che hanno ampliato le competenze dell'INAIL ci siamo ovviamente divisi i compiti credo che non ci siano tre persone più diverse dal punto di vista strutturale e direi anche dal punto di vista delle proprie esperienze tra Franco Rampi che rappresenta il CIV il sottoscritto e Massimo De Felice cioè la diversità assoluta però ognuno aveva un portato di esperienza propria di conoscenze abbiamo cercato di fare il meglio a proposito del del futuro io invece esprimo parere nettamente contrario ad un'ipotesi di CDA che preveda delle competenze settoriali cioè fra i contributi che sono stati consegnati all'attenzione al dibattito parlamentare c'è stata una proposta che dice sostanzialmente ci vuole un informatico ci vuole un attuario per quanto riguarda l'INAIL ci vuole un esperto di ricerca in questo modo ci sarebbe senz'altro il rischio di intromissione nelle singole tematiche ci sarebbero questi territori divisi e sarebbe indispensabile invece garantire l'unitarietà dell'indirizzo tecnico-amministrativo in questo la salvaguardia della funzione di organo del direttore generale che le proposte ovviamente non mettono in discussione è necessaria perché solo con l'equioordinazione tra organi ovviamente con articolazione di competenze solo evitando ogni forma di sovraordinazione organica si può garantire che la tecnostruttura che poi è composta da uomini che vanno ripeto ringraziati quotidianamente quotidianamente e che hanno comunque consentito all'ente di freggiarsi negli ultimi anni dell'appellativo di essere una delle amministrazioni più efficienti nonostante tutto nonostante tutto fino ad oggi perché il domani non sarà più assicurato in questo anche il presidente De Felice ci stimola sempre nella sua relazione annuale presentata il 5 luglio proprio presso questo importante palazzo delle istituzioni pubbliche ha continuato a stimolare la tecnostruttura dicendo evitiamo di piangerci addosso non diciamo più che si è fatto sempre così usciamo dall'immobilismo del trovare consolazione nel fatto che gli altri stanno peggio di noi allora gli risparmio un po' di lavoro questa frase la può tranquillamente riportare col taglio in colla l'anno prossimo è una frase mia non la prima ma la seconda oggi purtroppo la condizione delle amministrazioni pubbliche è esattamente quella consolarsi ogni tanto nel vedere che gli altri stanno peggio di te è elemento di conforto è un elemento che mi consente quotidianamente di ringraziare dove sto l'esperienza che sto facendo e soprattutto ringraziare la gente che mi consente di poter dire che è un ente di cui sono orgoglioso di far parte e di dirigerlo grazie a tutti grazie dottor Lucibello adesso diamo la parola al dottor Francesco Rampi grazie anch'io ringrazio anche a nome dei componenti del CIV essendo io l'organo collegiale quindi di rappresentanza di una pluralità di persone 17 nella fattispecie quindi su di me grava anche il compito di portare una sintesi di opinione di carattere collettivo io sono molto contento di essere alla presidenza di un organo collegiale perché la collegialità nella mia cultura ti aiuta a sbagliare meno non a non sbagliare ma a sbagliare meno e quindi in qualche maniera non guardo con invidia il presidente De Felice e il dottor Lucibello perché se sbagliano sbagliano in solitudine ed è secondo me più facile detto questo detto questo io credo che ci sia un passo in avanti molto importante nel dibattito politico sociale perché le tre proposte di legge che si stanno esaminando hanno entrambe l'idea della riconferma del sistema duale io difendo il sistema duale difendo il sistema duale per due ragioni primo perché la separazione tra gestione indirizzo e strategia è stata di grande utilità per evitare compromessi e gestione di carattere consociativo e comunque per poter fare esprimere le parti sociali su quello che le parti sociali sono in grado di esprimere cioè quali sono le esigenze di mutamento strategico per corrispondere a dei bisogni secondo detto questo l'esperienza attuale del sistema duale già stato ripetuto è imperfetta benché sia imperfetta non è portatrice né di ritardi né di costi di carattere aggiuntivo né di danni anzi correggere le imperfezioni può permettere di migliorare efficienza complessiva per far questo c'è un arretrato che dalla ultima riforma del 2010 ad oggi non è stato messo ancora a posto e io vi prego nel lavoro che state facendo di considerarlo poi lascerò su questo alcuni appunti perché ci sono degli addempimenti che la legge non ha precisato e che comportano spreco di energie di soldi e di lavoro un esempio solo l'approvazione del bilancio l'approvazione del bilancio dice la legge di riforma è di competenza in via definitiva del CIV una volta che il CIV l'ha approvato il CIV dell'Ine l'ha sempre approvato prima della scadenza dell'annualità solare una volta approvato essendo approvato in via definitiva è approvabile solo dopo il parere di legittimità dei sindaci potrebbe essere applicato l'interpretazione burocratiche puramente burocratiche del ministero pretendono 60 giorni per un riesame questi 60 giorni obbligano l'istituto a promuovere l'esercizio provvisorio aprire una contabilità attendere inutilmente ho fatto l'osservazione degli otto anni di mia esperienza al CIV in tutti gli otto anni le osservazioni sono arrivate dopo i 60 giorni chiudere questo esercizio provvisorio riaprire esercizio ordinario fare le riscritture contabili inutilmente inutilmente seconda questione voi ponete la questione della riforma dell'organo di controllo di legittimità io affermo che è indispensabile una relazione con i ministeri vigilanti e lo affermo quindi chiedendo che sia esplicitato con chiarezza che i componenti di questo organo siano in numero ridotto ma tutti espressione del gruppo dirigente dei ministeri vigilanti in cambio però bisogna abrogare il secondo livello di controllo dei ministeri vigilanti cioè c'è una cosa che si chiama alta vigilanza dei ministeri vigilanti che si svolge nei 60 giorni sono pronto a dimostrarvi con un'analisi puntuale un'osservazione che non c'è un'osservazione in questi otto anni di cui posso portare l'esperienza in cui le osservazioni dei ministeri vigilanti non sono coincise col taglia incolla qualche volta con errori con errori nel taglia incolla da parte delle osservazioni dei sindaci quindi anche questa è un elemento di semplificazione e di risparmio quindi sì alla riduzione del numero dei componenti probabilmente sì però all'affermazione che devono essere tutti dirigenti dei ministeri e in altre parole che siano delegati a svolgere anche per i ministeri questa funzione di controllo semplificando il ciclo terza questione io credo che il superamento dell'uomo al comando essendo stato consultato a suo tempo ero all'Inps quando si è voluto abrogare la questione dei comitati essendomi dei consigli d'amministrazione ed essendomi espresso contro allora sarei in contraddizione oggi nell'affermare che non è un elemento utile detto questo però bisogna anche rafforzare delle funzioni del CIV nel rafforzare le funzioni del CIV io sono un po' controcorrente da questo punto di vista credo che rafforzarle voglia dire aumentare la funzione di vigilanza perché in queste cinque consigliature i CIV hanno imparato a fare indirizzo di carattere strategico non hanno esercitato per mancanza di strutture vi dirò anche la proposta fino in fondo la funzione di vigilanza che non è una funzione di controllo e legittimità è di vigilanza tra la corrispondenza tra gli indirizzi strategici dati e la traduzione in gestione da questo punto di vista abbiamo dentro l'INAIL proprio oggi ieri anzi approvato per la prima volta uno strumento di semplificazione nel processo di pianificazione in maniera che il bilancio pluriannale è esattamente la trasposizione degli indirizzi del CIV ieri è stato approvata questo primo livello di pianificazione di carattere positivo cosa intendo dire aumentare la capacità di vigilanza il guaio della funzione di vigilanza è stato fatto con la 150 di Brunetta prima della 150 di Brunetta c'erano i NuvaCost i NuvaCost erano degli strumenti nuclei di valutazione strategica erano degli strumenti a disposizione sia della presidenza dell'istituto sia del CIV per avere commissionato delle approfondimenti di carattere strategico e una funzione di vigilanza commissionata in merito alla corrispondenza delle linee di carattere gestionale agli orientamenti la Brunetta ha assorbito e ha riportato anche dentro i due enti previdenziali allora erano di più di due ma oggi di due enti previdenziali l'OIV che ripete esattamente delle funzioni adatte per una struttura di carattere ministeriale attorno alla questione della performance ma che sono esattamente assorbenti di tutte le funzioni di questo organismo e sono di duplicazione di quello che è invece il compito di attorno alla performance quindi togliere questo aspetto o in via subordinata essendo difficile dicono gli studiosi di norme togliere questo aspetto rafforzare invece la funzione dei ruoli della scusate della funzione di nucleo di valutazione strategico per ultimo vado rapidamente io credo che ci sia un problema come veniva ricordato poc'anzi di precisazione dei ruoli dei tre organi noi parliamo di un sistema duale ma nella realtà siamo un sistema articolato su tre organi perché le funzioni strategiche di carattere politico strategico sono di competenza del CIVO poi c'è una funzione intermedia che è di indirizzo amministrativo e di rappresentanza dell'istituto che è in capo al presidente e poi c'è una funzione di trasformazione di questi indirizzi del CIVO in politiche di carattere gestionale che detta da un brianzolo vuol dire far tornare i conti far quadrare i conti cioè prenderle queste trasformarle in politiche di bilancio in politiche di investimento allora e qui mi fermo completando siccome voi legislatori secondo me in maniera molto positiva avete a piccoli passi trasformato profondamente l'INAIL da un istituto contro gli infortuni a un istituto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dandogli dei compiti importanti sulla prevenzione io sono sostenitore lo sa bene Lucibello della positività della chiusura dell'ISPEL e dell'assorbimento della ricerca dentro da noi perché non si fa prevenzione senza una questione della ricerca noi abbiamo in questi anni costruito sulla base di questo delle politiche ad esempio non lo discute mai nessuno ma delle politiche economiche di incentivazione della prevenzione quello che con un brutto nome oggi si chiama ISI ma che è un problema importantissimo innovare il parco trattori che in questi giorni si sta facendo vuol dire ridurre il numero dei morti in agricoltura perché il numero dei morti in agricoltura è strettamente correlato al fatto che ci sono dei trattori che hanno 50 anni si ribaltano resti sotto e muori non per altro motivo quindi fare un'operazione di questo tipo così come abbiamo fatto in questi 5 anni mettendo un miliardo e mezzo di incentivazione a fondo perduto del 65% degli investimenti di carattere di carattere tecnologico se orientati alla prevenzione vuol dire fare una operazione di politica economica per ultimo due cose uno ci sono da mettere a posto alcune questioni sulle prestazioni nel 2000 si è fatto un patto di riduzione delle prestazioni perché bisognava trovare un equilibrio di compatibilità economica oggi grazie alla riduzione degli infortuni quel patto regge e ha degli avanzi questi avanzi in una logica equa vanno in parte destinati a migliorare le prestazioni in parte destinati in una logica equa in parte destinati a incentivare la prevenzione in parte a questo due io sono difensore a differenza di quello che ho sentito da parte di altri enti un altro ente io sono difensore dell'istituto dei comitati di carattere territoriale quelli dell'INAIL contano molto meno di quelli dell'INPS contano molto meno io non so un istituto come l'INPS senza i comitati come faccia funzionare attorno ad alcune tematiche ma questo non mi tocca mi tocca invece i comitati dell'INAIL i comitati dell'INAIL sono consultivi vecchi fatti nel 1962 da rinnovare da ridurre nella composizione fatti da 21 persone si possono ridurre da riportare alla logica duale da riportare alla logica della discussione degli indirizzi e non della gestione però i comitati sono la promozione dell'immagine dell'istituto e la promozione delle politiche dell'istituto siccome l'istituto non è un istituto pagatore di prestazioni ma è un istituto promotore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha bisogno che nel territorio le parti sociali siano coinvolte in questa azione di promozione conoscendo conoscendo la famiglia Rampi mi rendo conto onorevole Di Salvo grazie mille presidente grazie al dottor Lucibello grazie a Franco Rampi per le loro presentazioni e naturalmente questa è una sede di audizione dico cose che i nostri auditi sanno perfettamente non è questa la sede in cui diciamo noi rispondiamo sì o no o accogliamo sì o no le osservazioni però è la sede in cui possiamo intanto assicurarvi che quelle osservazioni che peraltro immagino siano contenute anche in testi scritti faranno parte di quella esame del testo finale che insieme agli altri gruppi parlamentari proveremo e proverò in quanto relatrice a compilare anche perché alcune osservazioni effettivamente sono molto importanti e colgono molti punti il testo finale partirà appunto il testo da l'ascolto degli auditi mai come in questa occasione le audizioni sono state tutte le audizioni che abbiamo fatto sono state molto importanti quindi fatta questa premessa metodologica intendevo fare solo due considerazioni la prima rispondere a una domanda diciamo che il rituale perché siamo noi dovremmo fare domande a voi però siccome l'ottor Lucibele ci ha fatto una domanda io rispondo e cioè ha chiesto e si è chiesto diciamo così se la governance di due istituti ci sarebbe approcciati a una riforma se l'istituto fosse stato quello dell'Inail la risposta è sì perché l'ambizione della riforma sarebbe appunto di identificare una struttura che indipendentemente dalle condizioni e situazioni di ogni singolo istituto sia diciamo così coerente con il nuovo ruolo che entrambi gli istituti hanno un ruolo diciamo di gestione di tutte le prestazioni di welfare l'Inps e il ruolo nuovo che adesso Franco Rampi sottolineava di istituto che promuove la sicurezza nei luoghi di lavoro quindi il tema della governance è un tema diciamo ovviamente ho colto perfettamente il senso della domanda la risposta non è seriosa è proprio insomma dà il senso però dell'ambizione politica con cui le proposte sono state di legge sono state avanzate e di ciò che ispirerà anche il lavoro finale che noi ospichiamo di portare a compimento entro la fine della legislatura la seconda considerazione invece è questa governance vuol dire appunto scusate la banalità chi fa che cosa e chi nomina chi fa che cosa e chi rappresenta chi fa che cosa ora sistema duale è l'impianto delle proposte di legge e l'impianto che voi avete nominato teoricamente è l'impianto che già esiste no teoricamente il punto è che l'impianto che già esiste ha dimostrato di non essere un sistema duale al di là della forma e della denominazione quindi oggi il problema è come in modo più preciso e in modo che siano distinte quelle funzioni si definisce chi fa che cosa e chi nomina chi fa che cosa perché chi nomina è altrettanto importante di chi fa che cosa naturalmente anche questa è una considerazione scontata chi fa che cosa perché naturalmente la distinzione tra chi gestisce chi determina gli indirizzi e chi gestisce poi condivido con Francesco Rampi che il ruolo del direttore della tecnostruttura diciamo va anche in questo caso meglio definita per appunto per evitare è particolarmente importante ma ci tengo per questa ragione a fare un'ultima considerazione io sono convinta che il sistema duale sia il contrario di un sistema di cogestione a me non sarebbe mai venuto in mente peraltro di parlare di questo argomento se non fosse che invece c'è la preoccupazione che è stata avanzata che che il sistema duale possa rappresentare o comunque che bisogna evitare questo rischio allora siccome io penso fortemente che l'assetto democratico di questi istituti si basi esattamente non sulla cogestione ma sulla distinzione tra chi fa che cosa penso che l'unico modo per garantirlo sia il sistema duale e allora il punto sarà come noi riusciremo con professionalità e ascoltando i contributi che ci sono venuti garantire questo perché l'assetto democratico e l'efficacia delle funzioni così importanti dell'uno e dell'altro istituto sarebbero diciamo indebolite da un sistema di cogestione sono enfatizzate dalla distinzione dei ruoli quindi non dico altro sulle tante osservazioni di merito appunto perché non è questa la sede ma ci teniamo a definire questo punto perché è un punto politico diciamo di impianto molto importante grazie ci sono altri altre vedo là in fondo un parente è venuto è venuto è molto sparaglino avete voglia di replicare dottor Lucibello prego la mia non è una replica all'onorevole di salvo la mia era una domanda provocazione però poi avevo dato anche una risposta io credo molto nella collegialità e nell'implementazione di questo valore quello che io ho cercato di rappresentare spero di essere stato chiaro quello che forse ha rappresentato meglio di me Franco Rampi che oggi dopo parecchi anni dalla legge 88 dell'89 eravamo partiti in dieci fra istituti previdenziali e ci metto dentro anche l'ISPESL faceva comunque delle funzioni di ricerca importantissime che hanno qualificato la riforma e l'innovazione di INAIL io credo che sia anche il caso di discutere sulla opportunità di proporre un modello identico per INAIL e IMS quindi io studierei le competenze dei due enti come si sono sviluppate quello che fanno oggi il modello di finanziamento le funzioni nuove sanitarie di INAIL le nuove dinamiche degli investimenti la centralità che è stata richiesta su alcune politiche importanti per il sistema produttivo in questo contesto proporre una governanza identica che non tenga conto delle specificità di INAIL credo che non sia corretto però io credo anche che i contributi vi sono stati dati l'osservazione che potete ovviamente cogliere dal vostro importantissimo appunto osservatorio della politica delle istituzioni pubbliche cioè vi consentirà di proporre la soluzione più giusta e la soluzione più equilibrata grazie ringraziamo i nostri auditi grazie grazie